andiamo a vedere nel dettaglio il programma della prima giornata che è un po teorica ed è l'unica perché dopo passeremo nelle altre giornate tutto il tempo a smanettare a nastro con il pc allora nella prima parte della mattinata virtuale si parlerà di cos'è e cosa non è una tesina poi passeremo i materiali cioè cosa reperire dove reperirli come organizzarli nel pomeriggio virtuale parleremo invece di grafica cioè i caratteri quali sono e quali rare con i ceni di composizione grafica cioè organizzazione degli spazi e così via andiamo nel dettaglio a vedere cos'è e soprattutto cosa non è una tesina cos'è è una ricerca personale su un argomento un tema specifico che avete magari scelto voi che va sviluppato secondo uno schema che va progettato e questo schema deve contenere degli elementi fondamentali che vedrete a brevissimo cosa invece non è una tesina non è un copiancolla spudorato anzi per ricordarvelo diciamo ne due note perché è chiaro che il vostro lavoro avrà preso spunto da letture della visione di materiale creato da altri ma questo non significa che dovete limitarli a riportarlo pari pari anche perché sgamano ed è spesso illegale non vuoi però nemmeno dire di non impegnarsi nella ricerca bibliografica o in internet anzi dacci dentro andate in profondità vorrei ricordarvi tra proposito che selezionare materiali tra le miriade di informazioni presenti a reti è un'attività fondamentale e lo sa sempre di più che dimostra la vostra capacità e il vostro spirito critico quindi tip non nascondetola quindi vedi inserisci bibliografia sitografia e così via vi parlavo di uno schema di lavoro e delle sue parti fondamentali dato un tema gli elementi imprescindibili sono l'introduzione che è una serie di considerazioni personali sul motivo per cui avete scelto il tema o se non l'avete scelto perché avete scelto di affrontarlo in quel modo è la parte che dovrebbe indurre un ipotetico lettore ad andare avanti poi segue la parte più corposa quella della vostra ricerca vera e propria che si divide in capitoli che solitamente sono lunghi possono essere anche suddivisi in altre parti che si chiamano sezioni si passa poi alla conclusione che è l'ultima delle parti obbligatorie che sostituisce il frutto del vostro lavoro qui direte come questa ricerca vi ha arricchito dove vi ha portato e così via ci sono poi le parti fondamentali ma facoltative ad esempio le note che è lo spazio dove potete mettere tutto quello che non riguarda in maniera diretta il tema ad esempio si possono citare i testi e le immagini che avete usato o potete descrivere l'attività che avete svolto a latter come quella di natura grafica come l'impaginazione scelta di carattere e così via consiglio il lavoro che avete fatto dietro i quinti e che è stato comunque oggetto di elaborazione di presentazione di fatica va mostrato quindi le note sono la parte giusta dove farlo si va poi alla bibliografia o la sitografia che come dicevamo prima mostra proprio la vostra capacità critica di scelta e poi l'indice che ho messo in fondo ma potrebbe anche essere messo all'inizio in ogni caso è una parte molto importante perché descrive in maniera sintetica l'organizzazione del vostro documento se infatti prendete questo schema e lo riscrivete in maniera verticale su un'inca colonna ci si accorge quanto lo schema di prima e l'indice siano simili perché mancano solo i numeri di pagine quindi in realtà il vostro progetto dovrebbe proprio partire da lì parlando delle note abbiamo parlato di testi immagine e questo introduce il secondo argomento della giornata i materiali